Mi chiamo Fabrizio, sono un installatore, ho 34 anni e faccio questo lavoro da ormai più di 15 anni. Il mio lavoro è veramente molto vario. Quello che mi piace di più e che amo è il fatto che l'intervento non è mai uguale a un altro. Nella borsa di un installatore sicuramente non può mancare tanta attrezzatura perché bisogna sempre avere tutto per fare il lavoro al meglio e soprattutto tanta tanta pazienza. Mi piacerebbe consigliare agli installatori alle prime armi il fatto che devono armarsi di tanta voglia di imparare. Bisogna sempre studiare e sempre essere preparati sulle nuove apparecchiature e sulle nuove tecnologie che escono. Secondo me il prodotto Urmet che attualmente è il migliore è sulla parte antincendio proprio perché io faccio tanto di questo lavoro, installo molta rilevazione fumo e devo dire che mi trovo molto bene sia nell'utilizzo che nell'affidabilità nel tempo. Alla fine di una giornata di un installatore sicuramente non deve mancare la soddisfazione, è importantissimo essere soddisfatti di quello che hai fatto nella giornata e sicuramente un bel po' di riposo con un bel boccale di birro in mano.